Il presidente di AMSA, Renato Veronesi, durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Arco, ha avanzato l'ipotesi di assegnare a riva la gestione dei parcheggi. Durante la seduta, Veronesi ha anticipato l'installazione di nuovi parcometri per il pagamento della sosta, messi a dimore in questi giorni, che daranno omogeneità territoriale e permetteranno di effettuare il pagamento nelle più svariate modalità. La novità ha suscitato un certo dibattito con alcuni consiglieri di opposizione che hanno chiesto l'UMI circa la recente modifica allo statuto di APM, l'azienda municipale di Riva, che aprirebbe le porte ai comuni per arrivare a una gestione unitaria dei parcheggi in tutto l'Alto Garda. AMSA gestisce per conto del comune i parcheggi, ha chiarito Veronesi. Se noi riteniamo che APM possa essere la società che fa da capofila, nella loro gestione ben venga. La gestione dei campeggi invece rimarrà di certo in carico ad AMSA. L'importante, conclude Veronesi, è quello che dal punto di vista politico ci sia una regia capace di riconoscere e separare i ruoli delle due società.